Paganesimo, questa basilica dedicata a Santa Maria, ma chiesa del diavolo, ma probabilmente sorge su un tempio pagano, ne ha, e ne ha nei posti più insospettabili, ad esempio sotto una croce. Questa croce, che tra l'altro rompe l'uniformità della chiesa, non è una croce cristiana. Da cosa lo capiamo? Da segni di paganesimo celtico ben evidenti, cioè il sole delle Alpi, che è raffigurato nel guerriero celtico ai piedi della croce e sopra il braccio più alto della croce. La croce non è solamente un simbolo cristiano, sappiamo che è un simbolo che è stato usato anche presso popoli precristiani, un simbolo universale, ed è diventato cristiano solo per il supplizio di Cristo. Ma qui vi sono segni di qualcos'altro, di un sincretismo religioso che rende la storia di questa basilica ancora più misteriosa, ancora più affascinante, ancora più difficile da scoprire. Se pensiamo oltretutto che la prima attestazione di questa chiesa è una bolla di Papa Pasquale II fatta dopo l'anno 1100. Questa chiesa invece è una chiesa romanica che è molto, molto, molto precedente a questa prima attestazione storica.